Buongiorno e bentrovati con l'informazione del Tg Sud, la risposta del sindaco Forgione. Il primo cittadino delle Egadi risponde ai sette consiglieri comunali che hanno presentato una mozione di sfiducia verso la sua amministrazione, respingendo tutte le accuse. Questa è la nostra notizia del giorno. Francesco Forgione, sindaco di Favignana, non ci sta a respingere accuse dei sette consiglieri comunali che ieri hanno presentato una mozione di sfiducia. Secondo i firmatari, Forgione sarebbe incapace di amministrare e di conseguenza l'unica via per uscire dallo stallo in cui versano le tre isole dell'arcipelago sarebbe quella fornita da un'uscita anzitempo del sindaco e della sua amministrazione. Colpisce il momento, nel momento in cui la nostra amministrazione ha rispettato i cronoprogrammi per poter spendere e realizzare opere previste dal PNRR. Mai previste da nessuna amministrazione prima, a partire dai depuratori in tutte e tre le isole, dai dasalatori, dal rifacimento della rete idrica. Arriva nel momento in cui sempre questa amministrazione sta concludendo l'iter di un porto che da 40 anni i cittadini di Favignana aspettano nel suo ammodernamento. C'è qualcosa che non torna. Noi siamo sereni. Abbiamo operato per garantire trasparenza amministrativa, rigore etico e morale e soprattutto una gestione degli appalti corretta, al punto che alcune operazioni negli ultimi mesi hanno riguardato anche il lavoro svolto da questa amministrazione. Vedremo cosa succederà in Consiglio Comunale. Certo è strano. Questa mozione di sfiducia arriva alla vigilia della stagione estiva, quando questa amministrazione è impegnata per garantire servizi, qualità culturale, offerta turistica alle migliaia di persone che visitano l'Egadi. Un dato su tutti. L'anno scorso lo stabilimento Florio e Palazzo Florio, con le nostre iniziative, i nostri itinerari culturali, ha incassato 460 mila euro. Non era mai successo prima. E vorrei anche ricordare che la nostra amministrazione ha già approvato il bilancio di previsione del 2024, dove sono contenute tutte le potenzialità di investimento per dare nuovo impulso allo sviluppo turistico, culturale, ambientale del nostro territorio. Se penso ad altri bilanci che inibiscono persino con la loro non approvazione gli investimenti sulla spesa sociale, penso e ragiono sul perché si vuole colpire questa amministrazione proprio ora. E la si vuole colpire solo qui e da qui o anche da altrove. Queste sono le domande. Noi porremo subito il bilancio al Consiglio Comunale perché la stagione estiva che ha bisogno di investimenti, di risorse, di integrazione del personale a partire dai vigili urbani per governare i flussi turistici, sia messa in condizione di operare. Ci fermiamo un momento, tra poco tutte le altre notizie. Bruciavano rifiuti denunciati. Si tratta di due alcamesi, padre e figlio, individuati dai carabinieri. Nessun funerale. Il cappellano del cimitero di Mazzara del Vallo si difende, celebrata solo una messa per Gaetano Riina. Un obiettivo raggiunto. La giunta di Valderice, guidata dal sindaco Francesco Stabile, ha approvato il bilancio di previsione e il relativo documento unico di programmazione 2024-2026. Un attimo prima di Dio. Questo è il titolo del nuovo libro dello scrittore trapanese Giacomo Pilati, incentrato sulla figura di Giuda Iscariota. E poi per lo sport, ancora una trasferta. Dopo l'entusiasmante vittoria arrivata a Imola, il Trapani domani torna in campionato, atteso dall'impegno contro la nuova Egea Virtus. E poi, per l'approfondimento, progetto da rivedere. Il comune di Trapani, attraverso il suo ufficio tecnico, ha chiesto alcune modifiche relativamente a parti del progetto Ultimo Miglio nell'ambito della ZES, a partire dalla nuova strada prevista nei pressi dell'ex Salina Collegio. Ancora ben trovati da parte mia e da parte di tutta la redazione di Telesud, bruciavano rifiuti indagati. Si tratta di due alcamesi, padre e figlio, individuati dai carabinieri indagati per gestione non autorizzata di rifiuti e combustione illecita. Il servizio avrebbero bruciato rifiuti dopo averli depositati in un appezzamento di terreno, di vieto di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due alcamesi, padre e figlio, rispettivamente di 52-25 anni, destinatari di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ed eseguita dai carabinieri. I provvedimenti sono il risultato di un'indagine che ha preso il piede lo scorso mese di gennaio, quando i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, notavano un principio di incendio incontrato a fastuchera. I militari dell'arma allertavano subito i vigili del fuoco, il cui intervento sconciurava che le fiamme si propagassero. Pompieri e carabinieri hanno poi scoperto che nelle adiescenze di un canneto erano stati dati alle fiamme rifiuti di vario genere pericolosi e nonno, tra cui si distinguevano parti di immobilio, infissi, serramenti, materiale d'arreto, lambadari, porte, avvolgibili con serrante in plastica e barattoli di vernice. Dalle immagini estrapolate dalle telecamere di visorveglianza, gli investigatori hanno individuato un autocarico di materiale con a bordo padre e figlio. Le risultanze raccolte dai carabinieri sono state condivise dall'autorità giudiziaria che ha emesso i provvedimenti restrittivi a carico dei due indagati. Il padre è stato sottoposto al dipendimento del comune di Alcamo per il figlio, invece, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, entrambi devono rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita. Ci spostiamo adesso a Mazzara del Vallo. Il cappellano del cimitero di Mazzara si difende. Non ho celebrato alcun funerale per Gaetano Rina, ma solo una messa con rito funebre. Il cappellano del cimitero di Mazzara del Vallo, Don Nicola Misuraca, finito nell'occhio del ciclone per aver celebrato una messa in memoria di Gaetano Rina, fratello del boss d'otò, si difende. La messa dice, la faccio per tutti i defunti. Non è stata fatta soltanto per Gaetano Rina, che neanche conoscevo. Nonostante il divieto del questore di Trapani, che aveva disposto soltanto una benedizione della Salma per motivi di ordine pubblico, lo scorso 25 febbraio sarebbe stata celebrata una funzione religiosa. Don Misuraca però precisa che non si è trattato di un funerale, ma di una messa con rito funebre che non va contro le disposizioni della questura. Il vescovo di Mazzara del Vallo, Angelo Giudanella, ha però annunciato di valutare provvedimenti disciplinari contro il cappellano disubbidiente. L'associazione mafiosa, ha detto il capo della chiesa mazzarese, è inconciliabile con il Vangelo e con la fede della chiesa. Tutti coloro che ne fanno parte si autoescludono direttamente o indirettamente dalla comunità ecclesiale. Sulla lettera del vescovo, replica Don Misuraca, non ho nulla da dire, la condivido. Ovviamente la chiesa è contro qualsiasi mafia, ma ancora una volta voglio ricordare che l'ultimo giudizio non è il nostro, ma quello divino. L'ex comandante del carcere Pietro Cerulli di Trapani, Giuseppe Romano, è stato assolto dall'accusa di procurata evasione il servizio. Assolto perché il fatto non sussiste. Si è conclusa così la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l'ex comandante della polizia penitenziaria Giuseppe Romano all'epoca dei fatti in servizio presso le carceri Pietro Cerulli di Trapani. Romano era accusato di procurata evasione. La vicenda risale al mese di giugno del 2019 quando uno dei detenuti, l'albanese Luca Lele, di 34 anni, recluso all'interno del penitenziario trapanese, dove stava scontando una condanna per traffico di droga e furti, riuscì ad evadere scavalcando il muro di cinta della struttura. L'uomo venne rintracciato pochi giorni dopo la fuga dai carabinieri mentre vagava nei pressi della linea ferroviaria nelle campagne di Fulgatore. E ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di padre Stellino trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Trapani. Una chiesa gremita, composta ed emozionata ha dato l'ultimo saluto a Don Nicolo Stellino. Numerosi fedeli che in questi giorni hanno espresso il desiderio di partecipare virtualmente ai suoi funerali che, grazie alla generosa offerta di due professionisti, Pepe Virgilio e Massimo D'Azeglio, è stato possibile seguire presso la chiesa di San Giovanni Battista in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Trapani. Un'iniziativa che ha permesso a coloro che non possono essere presenti fisicamente di rimanere in comunione con la cerimonia e di rendere omaggio a Don Stellino, il cui impegno è stato riconosciuto fuori e dentro la comunità ecclesiastica e parrocchiale. Tutti coloro che l'hanno conosciuto hanno toccato con mano la beatitudine dei poveri in spirito. L'hanno riconosciuto in tante virtù evangeliche e sacerdotali da lui vissute. La descrizione di questo povero, secondo il Vangelo, non trova aggettivi sufficienti. Noi presenti, e quanti da lontano ci hanno telefonato o scritto, lo ricordiamo come uomo di Dio accogliente, entusiasta, libero, tenace e misericordioso. Così lo ha ricordato il Vescovo Pietro Maria Fragnelli nella sua omedia. Ieri, durante il Consiglio Comunale, il Sindaco Tranchida ha sottolineato il costante impegno del sacerdote nel recupero di importanti risorse per la comunità, tra cui l'ex mattatoio. A seguire è stato osservato un momento di silenzio per rendere omaggio alla vita e al servizio di Don Stellino, un uomo la cui eredità continuerà a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua generosità e dedizione. Ancora una pausa per noi, torniamo tra poco. Un obiettivo raggiunto. La giunta di Valderice, guidata dal Sindaco Francesco Stabile, ha approvato il bilancio di previsione e il relativo documento unico di programmazione 2024-2026. Un attimo prima di Dio. Questo il titolo del nuovo libro del scrittore trapanese Giacomo Pilati, incentrato sulla figura di Giuda Iscariota. E poi per lo sport ancora una trasferta, perché domani il Trapani torna in campo, in campionato, ed affronterà proprio fuori dalle mure amiche del provinciale la nuova Igea Virtus. Torniamo nuovamente in studio e ci spostiamo a Valderice, perché la giunta comunale ha approvato il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione. La giunta comunale di Valderice, guidata dal Sindaco Francesco Stabile, ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e il relativo documento unico di programmazione 2024-2026. Gli strumenti finanziari andranno al vaglio del Consiglio Comunale, ma intanto il primo cittadino si è dichiarato soddisfatto per aver adottato l'indispensabile strumento finanziario entro la scadenza del mese di marzo. È certamente un risultato di grande rilevanza, ha detto Stabile e ci pone tra i primi comuni in Sicilia ad aver raggiunto questo obiettivo, considerato che la gran parte degli enti locali si ritrova a vivere ormai condizioni di ritardo, con la conseguenza di non riuscire più a garantire servizi essenziali. Si attende adesso il parere dei revisori contabili per approdare al più presto in Consiglio Comunale per l'adozione definitiva. Tutto ciò, sono certo, continua il Sindaco, ci consentirà di dare con maggiore serenità le risposte che il nostro territorio e i nostri cittadini attendono. Si è concluso a Pantelleria il corso in comunicazione avanzata organizzata dal Comune. Si è concluso a Pantelleria il primo corso gratuito in comunicazione avanzata per operatori turistici e commerciali. Fortemente voluto dall'assessore Tremarco, è stato organizzato dall'amministrazione comunale. L'obiettivo, rafforzare la vocazione turistica dell'isola che trova il suo volano di sviluppo proprio nella corretta comunicazione e nell'adeguata promozione del territorio. Docente Luca Vernocchi, cofondatore di un'applicazione che monitora il livello di benessere dei dipendenti delle grandi aziende e che da più di vent'anni si occupa di formazione a livello delle multinazionali. Un corso da tutto esaurito in cui i 70 partecipanti hanno appreso le nozioni base di una corretta comunicazione, indagato le dinamiche relazionali, compreso l'importanza delle varie forme del linguaggio. L'ultimo giorno, attraverso un gioco di gruppo, sono stati applicati tutti i concetti appresi durante la settimana, facendo team building, ovvero gioco di squadra. Un modo interessante per imparare divertendosi, che ha suscitato entusiasmo e sano spirito di competizione fra i gruppi. È stata un'esperienza molto bella, il feedback che abbiamo ricevuto è stato enorme. posso dire che non neanch'io me lo aspettavo così importante. Abbiamo avuto il sold out per tre giorni, abbiamo avuto persone che sono venute a interagire in maniera molto importante, quindi è stato veramente un corso dove abbiamo dato, ma abbiamo anche ricevuto e sono molto contento di questa esperienza. Abbiamo avuto una buonissima risposta da parte del territorio, una partecipazione ampia. Gli imprenditori e gli operatori turistici e commerciali hanno apprezzato particolarmente la praticità di questo corso. Oggi il mercato del lavoro e del turismo in particolare richiedono figure professionali sempre più qualificate. Riteniamo come amministrazione che nell'ambito della comunicazione Pantelleria debba fare un salto di qualità, passando, fatemi dire, a tecniche di avanguardia sulla comunicazione che porteranno sicuramente dei benefici a tutto il territorio come sistema isola, per cui come amministrazione intendiamo proseguire su questo percorso e ci attiveremo da subito per implementare nuovi corsi con nuove figure, sempre aperte al territorio e questo sicuramente ci darà dei risultati a medio termine. Un attimo prima di Dio è il titolo dell'ultimo libro dello scrittore trapanese Giacomo Pilati, edito da Digirolamo con le illustrazioni di Tiziana Longo. Lo abbiamo ascoltato. Mi piace sempre raccontare le ombre, le parti che non sono sempre in piena luce, che non sono sempre al centro delle narrazioni e Giuda è il paradigma di tutto questo. E poi mi ha sempre affascinato questa figura che dalla storia è stata definita un reietto, è stato definito proprio il traditore per eccellenza. Ho cercato di restituire con questa mia narrazione, una sorta di monologo teatrale, dignità e ardore appunto a questa figura che i evangelisti appunto ogni qualvolta ne pronunciano, ne scrivono il nome, lo accoppiano alla figura del traditore, o colui che ha tradito o colui che tradirà. E questo avviene anche quando non ce n'è bisogno. E poi, ripeto, mi è piaciuto porre al centro della narrazione questo personaggio che la storia continua a respingere, restituendogli anche un ruolo, una dignità, con un finale che poi tra l'altro è un finale a sorpresa. E poi, come mi piace dire, insomma, io la penso come Vecchioni, che scrive ha il dovere o comunque la possibilità di spostare col pensiero i fiumi. E io questo ho cercato di fare raccontando questa storia. Ecco, sono tre libri che una trilogia appunto dedicata alla passione, che non è solo la passione sacra, la passione religiosa nel senso più ortodosso del termine, ma proprio passione come sentimento. E quindi nel primo libro ho raccontato la passione di Maria di Nazareth, quindi l'amore di Maria di Nazareth. In questo secondo libro racconto l'amore, restituisco l'orgoglio di un sentimento ad un personaggio abbastanza messo ai margini della storia della Chiesa. E il terzo libro sarà dedicato appunto ad un altro personaggio che mi ha molto incuriosito. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 19.40 e 22.40 andrà in onda il nostro magazine. Invece domani, a partire dalle 14.45, trasmetteremo la partita in diretta dal Contres Barone di Barcellona Pozzo di Cotto, l'incontro tra Nuova Egevirtus e Trapani, valida per la 29esima giornata del campionato di Serie D. Tra poco lo sport. E lo sport con la palla a mano, partiamo proprio dalla palla a mano perché come noto la Enboleri c'è ferma ma si gode Giulia Losio e Ramona Manelovic in nazionale. Infatti le due arpie azzurre giovedì hanno contribuito alla vittoria con la Lettonia Dobele con due gol a testa proprio da parte delle ericine. Domani il ritorno invece a Chieti alle 18.30 per la rincorsa alla qualificazione all'europeo che si svolgeranno in Svizzera, Austria e Ungheria tra fine novembre e inizio dicembre prossimo. L'Italia femminile della palla a mano punta così a qualificarsi tra le migliore terze degli otto gironi di qualificazione. E passiamo al calcio, chiaramente poi la diretta alle 14.45 su Telesud verrà replicata alle 20.30 come detto dopo l'entusiasmante vittoria ottenuta in Coppa Italia nella semifilale di andata contro Limolese il Trapani è teso da un'altra trasferta dal Contrez Barone contro la nuova Egea Virtus e mister Torrisi oggi ha parlato in conferenza stampa. La squadra è più in forma del campionato dopo di noi, cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite numeri da secondo posto in classifica una squadra che da Siracusa in poi ha invertito la rotta sta facendo molto bene sta facendo un grande campionato il mio modo di vedere è una squadra che ha giocatori di qualità oltre che di gamba il fattore campo è un fattore determinante perché il contrasto per loro è importantissimo per il modo che hanno di esprimersi soprattutto e anche il modo di atteggiamento proprio che hanno sulla partita è una squadra che sta facendo bene è una squadra importante dove anche i giocatori come detto un attimo fa di qualità ben allenata da Di Gaetano che come sempre riesce a essere un valore aggiunto per le squadre che allenano in queste categorie e noi dobbiamo andare lì consapevoli della forza dell'avversario però consapevoli anche dell'importanza dei punti che ci sono in palio per il nostro percorso e consapevoli anche che il nostro percorso ancora ci fa trovare una tappa difficile che dobbiamo affrontare comunque con tanto umiltà per come abbiamo fatto nelle partite fuori casa precedenti e soprattutto mettendo in atto sempre la nostra mentalità che è quella di provare a vincere tutte le partite è cambiato qualcosa perché l'Igea dell'andata aveva un sistema di gioco diverso da quello che ha attuato nell'ultima gare prima giocava con una difesa a tre adesso ultimamente sta giocando con una difesa a quattro quindi è cambiato qualcosa ho detto che l'insidia più importante è il campo quella secondo me è quello che a loro gli permette di fare di avere un atteggiamento anche tattico diverso da quando sono fuori casa e dentro casa aggrediscono molto bene in avanti ti pressano alti questo perché viene facilitato anche dalle condizioni del terreno che non permettono un palleggio fluido e quindi quando tu vuoi fare pressione alta e tu che devi costruire la palla a posto di toccarlo due volte devi toccare tre per metterlo a posto questo favorisce sicuramente la squadra che va a pressare e mette in difficoltà chi prova a giocare e sempre domani alle 18 però la Trapani Shark riceverà l'Assigie Copiacenza nella ventisesima giornata della stagione nonché quarta giornata della fase ad Orologio ieri in conferenza stampa sono intervenuti il coach Daniele Parenti e Ian Carlos Rodriguez loro sono una squadra che fa del contropiede la loro prima arma hanno degli americani molto solidi tra i vari skins che è un giocatore interno molto fisico che dà molta profondità poi hanno dei giocatori di talento come Sabatini che è un giocatore in grado di mettere in ritmo i compagni creando vantaggi nell'uno contro uno e poi hanno dei diratori come tra i tanti veronesi che possono aprire il campo quindi sicuramente dobbiamo cercare di limitarli nelle loro armi migliori siamo tornati a lavorare tutti insieme stiamo tutti bene abbiamo fatto una settimana con dei carichi di lavoro importanti che rispetto a questo vogliamo insomma riportarli domenica in partita quindi sappiamo magari che adesso siamo tutti abbiamo qualche minutino in meno soprattutto insomma per chi ha giocato tanto in questi mesi quindi potrà dare il 110% senza gestirsi il primo punto di curiosità da verificare o banalmente sarà vedere se abbiamo perso un po' il ritmo partita perché dopo le soste è sempre un po' punto interrogativo paradossalmente abbiamo avuto meno giorni rispetto all'usuale per preparare la partita tra rientri a nazionale e rientri di altri giocatori e poi c'è sicuramente l'avversario che è in ottima forma viene da una vittoria convincente in casa da una partita che stava quasi per vincere è persa nel filale a Torino una squadra che ruota in dieci giocatori molto atletica perché è una squadra che tende a correre in contropiede gli piace correre e con molta taglia soprattutto negli esterni quindi bisognerà avere e dare una prova soprattutto di squadra di cercare di controllare il ritmo di cercare di togliersi la ruggine subito da 15 giorni di inattività Il Comune di Trapani attraverso il suo ufficio tecnico ha chiesto alcune modifiche al progetto per la nuova strada prevista nell'ambito della ZES l'approfondimento è a cura del nostro Mario Torrente La nota, datata 21 febbraio porta la firma del responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Trapani Oraziamente del Sindaco Giacomo Tranchida Nel documento inviato alla ZES Sicilia Nord-Occidentale oltre che all'autorità di Bacino al Genio Civile di Trapani alla Commissione Tecnico-Scientifica del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Regionale al Territorio si parla della nuova strada che nell'ambito del progetto che punta al potenziamento dei collegamenti tra il porto e l'area industriale dovrebbe sorgere tra la via Libica e la via Professore Giuseppe Salvo andando di fatto a tombare parzialmente un canale della ex Salina Collegio mettendo un tubo di 500 mm Nella nota l'Ufficio Tecnico chiama in causa lo studio avviato a seguito dell'alluvione del 26 settembre dove si ritiene che tale canale possa avere in futuro a seguito di una riqualificazione complessiva del sistema di drenaggio urbano della città una funzione rilevante e pertanto va salvaguardato non condividendo il fatto che lo stesso possa essere interrato e sostituito da un tubo di diametro trascurabile Lo studio di cui si parla nel documento è quello presentato il 3 maggio del 2023 a Palazzo Dalì dall'ingegnere Simone Venturini dove tra i possibili interventi prospettati si parla proprio della necessità di preservare e recuperare l'ex Salina Collegio e lo stesso sindaco Tranchida in quella sede parlando delle soluzioni da mettere in campo prospettò diverse ipotesi nell'ottica di tornare a ciò che faceva anticamente il canale Scalabrino per smaltire le acque piovane e lo stesso primo cittadino ha confermato in questi giorni come si stia ancora lavorando su questo studio e sugli interventi da mettere in campo per la messa in sicurezza del centro urbano con l'obiettivo di ridurre per quanto possibile il rischio allagamento in città quasi un anno dopo i riflettori sono adesso puntati sulle opere previste per la ZES e guardando agli effetti della crisi climatica occorre prevenire il rischio allagamenti e proprio nelle sue funzioni di autorità locale di protezione civile l'amministrazione comunale di Trapani ha chiamato in causa gli aspetti idraulici ed idrogeologici del progetto per la strada nel tratto EH premettendo come l'esecutivo di Palazzo Dalì non abbia alcuna competenza sul rilascio dei pareri idraulici l'area in questione non è poi interessata dal convincolo idraulico idrogeologico ma resta il fatto che il Comune stia provando a mettere in campo delle strategie per evitare futuri allagamenti come testimonia lo studio redatto dall'ingegnere Venturini e che individua la zona della ex Salina Collegio quale potenziale vasca di laminazione per raccogliere e assorbire le acque piovane da qui la richiesta ufficializzata nella nota firma dell'ingegneramento del sindaco Tranchida di rivedere il progetto nel tratto EH della strada da realizzare al fine di preservare la funzionalità del canale dell'ex Salina Collegio evitandone il tombamento anche parziale al fine di un suo utilizzo nell'ottica di un progetto complessivo di adeguamento del sistema di drenaggio urbano che possa servire a reggere gli effetti dell'attuale crisi climatica questo è quello che c'è scritto nel documento dello scorso 21 febbraio dove l'ufficio lavori pubblici ricorda anche la buona prassi di non ricoprire e non intubare più canali esistenti anche alla luce dei criteri di NSH che riprendono e fanno propri quelli della Nature-Based Solution il piano di ripresa e resilienza prevede infatti di finanziare misure che possano coniugare la crescita economica nel rispetto dell'ambiente si tratta per l'appunto del principio di NSH specificato tra l'altro dal Ministero dell'Ambiente con una nota relativa all'applicazione dei finanziamenti da PNRR e nel corso della conferenza stampa tenuta martedì a Palazzo Dalì dedicata alla presentazione del progetto Trapa in Ultimo Miglio a cui hanno partecipato il commissario straordinario per la ZES Sicilio Occidentale Carlo Amenta e il project manager della struttura commissariale Franco Messina il sindaco Tranchida ha espresso una disponibilità a una revisione del progetto esecutivo della strada a servizio della ZES nell'ottica di apportare delle migliorie se dovessero emergere in corso d'opera degli aspetti rilevanti di modifiche all'assetto idrogeologico ambientale delle aree interessate a servizio di modifiche di modifiche Grazie a tutti.